Ciao a tutti dello Chef Ruggero, è partita l'operazione vacanze, ricordiamoci che con questa temperatura e questo tasso di umidità nell'aria i nostri conservatori sono sottoposti a uno sforzo abbastanza impegnativo. Vi ricordo che per ottenere il massimo dei vostri conservatori e evitare sprechi di energia e di danaro pagando borrette esorbitanti bisogna fare la pulizia dei compressori e dei vostri freezer. Quindi sappiamo tutti che con l'aumento dell'umidità nell'aria si accumula il ghiaccio perché aprendo sia i conservatori che le vetrine orizzontali per la conservazione del nostro mantecato sulla serpentina si forma il ghiaccio, è inevitabile. Teniamoli sbrinati e puliti e puliamo il compressore con un aspirapolvere, un'operazione semplicissima che ci farà risparmiare il danaro e ci metterà al sicuro da brutti inconvenienti, brutte sorprese del freezer che a un certo punto non funziona e ci si rovinano i prodotti all'interno. Quindi almeno due volte all'anno pulizia dei compressori e tenete d'occhio i conservatori, evitiamo gli accumuli di ghiaccio, sbrinamento e pulizia. I consigli dello chat ruggero mi fanno risparmiare tempo e danaro. Ciao a tutti!